La parola insieme per noi vuol dire molte cose, prima di tutto persone con obiettivi comuni. Insieme è una parola solida, perché è la storia di tutti noi. Insieme è una parola positiva, da cui ripartire per costruire benessere. Insieme è una parola che cresce, quando crescono i progetti e la fiducia nel futuro. Insieme è una parola che racconta le nostre storie e il futuro che scriveremo domani. BCC Ravennate in Molese. Il futuro. Scriviamolo insieme.